OpenTech è un Digital Payment Service Provider, eroghiamo servizi di pagamento in modalità FUSTECH, ovvero progettiamo e realizziamo la soluzione end-to-end e la eroghiamo su infrastruttura cloud in modalità API oppure tramite applicazioni white label che personalizziamo per i nostri clienti. I nostri clienti sono tipicamente fintech, banche o issuer di strumenti di pagamento. Siamo attivi in Italia, Svizzera e Austria ed abbiamo i nostri uffici in Italia e in Svizzera. Un riconoscimento che abbiamo ricevuto di recente e che premia a livello internazionale il posizionamento della nostra offerta è l'essere stati riconosciuti da Mastercard come terzi in una classifica internazionale e mondiale dei migliori fornitori di Digital Wallet. È un premio che ci ha riempito di orgoglio perché ci confronta con un panorama internazionale estremamente competitivo in ambito mobile payment e digital payment in generale. Per me il fintech district è un luogo di incontro e di confronto tra le realtà fintech nazionali e il panorama più ampio internazionale. Questo è importante sia per acquisire consapevolezza dei nostri punti di forza, spesso vediamo la realtà italiana domestica, la percepiamo ingiustamente inferiore rispetto ai big player internazionali. Non è così, confrontandoci ci rendiamo conto di quanto possiamo essere forti. D'altra parte però il confronto con gli altri ci consente anche di analizzare e misurare con umiltà quelli che sono i nostri punti di debolezza e magari superarli.